Presidente, all'inizio di questa trasmissione noi abbiamo mandato le dichiarazioni che lei, insomma, in maniera emotivamente piuttosto coinvolta... No, no, ero tranquillissimo, dottor Beffa, non sono coinvolto emotivamente in nulla. Sì, però si è molto discusso di questa sua, di quella battuta sul capo dello Stato napolitano, si sa da che parte sta, il Quirinale ha replicato dicendo sta dalla parte della Costituzione, lei ha controreplicato, non mi interessa quello che fa Napolitano. Insomma, c'è stata stasera una piccola crisi istituzionale in conseguenza del verdetto e la consulta? Io ho detto quello che penso e secondo me qual è la situazione, per cui non ho nulla da modificare rispetto alle mie dichiarazioni che potrebbero anche essere più esplicite e anche più dirette, per cui rimango a quello che ho detto e questa è la situazione, punto e basta. La consulta si è contraddetta rispetto al voto di alcuni anni fa, aveva recepito quattro punti di cambiamento di una legge che era stata respinta proprio per questi quattro punti, il Parlamento si è applicato, ha lavorato a lungo, commissioni e aule, e ha modificato questi quattro punti secondo le richieste della consulta, che trovandosi di nuovo a dover giudicare ha eccepito la incostituzionalità della legge che l'altra volta non era stata eccepita. Quindi da qui si ricava quello che ho sempre pensato della consulta, non è un organo di garanzia, è un organo politico in cui purtroppo per la successione di tre Presidenti della Repubblica di sinistra si sono nominati tutti giudici di sinistra e oggi la Corte Costituzionale è occupata e dominata da undici giudici di sinistra, da quattro giudici che non sono di sinistra e quindi non c'è nessuna speranza di vedere che le decisioni della Corte siano decisioni autonome che rispettino l'oggettività dei dati, ma sono decisioni politiche come in questo caso. Presidente, ma a che c'entra il Presidente della Repubblica con tutto questo? Presidente della Repubblica aveva garantito con la sua firma che questa legge sia stata approvata anche nei comportamenti successivi e quindi dato la sua notoria influenza sui giudici di sinistra e sul giudice che ha nominato lui, faltava che il Capo dello Stato intervenisse con la sua nota influenza di tutti i Capi dello Stato sui componenti della Corte e ci sarebbe stato un rafforzamento di quei due voti che avrebbero fatto passare questa legge. Sento parlare della signora Rosi Binti Sì, dice che è gravissimo quello che lei sta dicendo È sempre più bella che intelligente La prego, Presidente la prego No, non mi preghi, ma io dico che mi sono staccato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me Presidente, io sono una donna che non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce Sono una donna che non è a sua disposizione e mi sento molto grave Le affermazioni che lei questa sera ha fatto E va bene, lei pensa così gli italiani Lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei Va bene? Presidente, mi scusi, quali saranno le conseguenze politiche di questo voto di sacera? Senti a governare, abbiamo governato 5 anni dal 2001 al 2006 senza che ci fosse nessun lodo La minoranza organizzata dei giudici di sinistra che usa la giustizia a fini di lotta politica continuerà a farlo Ci sono due processi in corso a Milano che riguardano anche il Presidente del Consiglio, cioè il sottoscritto Che sono semplicemente due farse Io non solo andrò in tribunale a presentare le mie difese Ma andrò in radio, sui giornali, in televisione E esporrò agli italiani la sostanza di questi processi Voglio vedere se poi ci sarà un collegio come quello che ha giudicato precedentemente il signor Mills Formato tutto da giudici di estrema sinistra Che sono scesi in piazza con i cartelli contro il governo Che hanno firmato le dichiarazioni contro il governo Che avranno di fronte agli italiani il coraggio di emettere una sentenza contro la realtà delle cose Quindi sono deciso, vado avanti Non sono emotivamente coinvolto perché io sono sempre così come sto parlando adesso Forse mi sono stancato di non dire la verità delle cose come mi appare E siccome noi siamo in una situazione in cui abbiamo Questa minoranza organizzata di giudici di sinistra che usa la giustizia per fare lotta politica Una maggioranza della stappa di sinistra con la capo repubblica Che vediamo come si comporta Una trasmissione, una RAI che ha, eccetto quella del signor Vespa Tutti gli altri trasmissioni di approfondimento Che sono di sinistra e che vanno contro il governo Che fanno processi al governo e alla maggioranza Più tutta la satire che è tutta contro il governo Più un capo dello Stato che è espressione di una vecchia maggioranza di sinistra Che aveva anche ottenuto la maggioranza con quei 26 mila voti Che noi abbiamo con ragione contestati E oggi quindi è con una corte che non è più organo di garanzia Ma è organo politico dominato dalla sinistra Dico noi abbiamo il diritto di dire questo agli italiani Che sappiano che per fortuna ci siamo noi Qualcuno ha detto e io ho ripreso la cosa Meno male che Silvio c'è Perché noi non permetteremo a questa sinistra di prevalere Non permetteremo che ribalti il risultato del voto Che sovverta il volere dei elettori E quindi noi continueremo a governare il paese Con la serenità di sempre Senza lasciarci assolutamente mettere in timore Da questa sinistra che si comporta usando queste armi Che secondo me non fanno parte di una vera democrazia In una democrazia il parere degli elettori Il voto degli elettori si rispetta Il governo e la maggioranza governano per gli anni Di una legislatura che sono 5 Non c'è nessun diritto da parte della sinistra Di pretendere che un governo lasci Una maggioranza di elettori Che ha confermato Le successive occasioni elettorali Sicilia, Roma, Abruzzo, Sardegna Elezioni europee, elezioni amministrative Di sostenere questo governo Una domanda Ma chi gli ha chiesto un comitato? Nessuno ha chiesto un comitato Senza farci intimidire Da questa sinistra prepotente Che attacca con armi Che non sono della democrazia Chi è stato regolarmente eletto Democraticamente eletto Dalla maggioranza degli italiani E ha oggi il 70% Del gradimento degli italiani Presidente